Il Vice Presidente e Assessore all'Economia della Regione Siciliana, Ghetan Armao, è stato relatore del parere sulla coesione digitale alla tredicesima riunione della Commissione Politica Economica, Econ, del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles. Nella relazione, Armao ha ricordato come la coesione economica, sociale e territoriale costituisca uno degli obiettivi principali indicati nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'articolo 174, ai fini di uno sviluppo armonioso ed equilibrato in tutta l'Unione e nelle sue Regioni. Ha sottolineato che il concetto di coesione digitale richiede l'integrazione degli obiettivi di coesione nei diritti, nei principi e nelle politiche digitali dell'Unione, auspicando, peraltro, una revisione dell'articolo 175 dello stesso Trattato. Il parere è stato approvato all'unanimità. Quindi c'è una grande convergenza su questo tema. Ringrazio la Commissione Europea che ha avuto parole di grande apprezzamento per il contenuto del parere che è frutto di un confronto anche con studiosi universitari, con organismi, con associazioni di categoria. Quindi non è soltanto elaborazione della struttura degli esperti, ma è molto importante che ad ottobre, quando si voterà in plenaria, sarà una plenaria importante perché sarà la plenaria che avrà anche la settimana delle Regioni, qui a Bruxelles, e quindi sarà quella cruciale, pensiamo di portare il tema del digitale nella sua forza, nella sua capacità innovativa. La frontiera per l'Europa è una frontiera eco-digitale. Non è pensabile la trasformazione ecologica senza guardare anche la trasformazione digitale e viceversa. La Sicilia, a dispetto delle sue non eccellenti condizioni infrastrutturali, sta cercando di colmare il gap digitale. In questo momento la Sicilia ha il doppio dei comuni con banda larga e ultralarga di quanto abbiano regioni importanti del nord. Questo proprio perché gli investimenti europei sono stati significativi, sono stati impiegati al meglio. Lo stesso si è fatto anche con i cosiddetti voucher, cioè con la possibilità di dare computer, laptop, devices vari ai cittadini che non possono accedere all'acquisto o non possono accedere alle reti e quindi consentire anche la crescita delle competenze. Perché questo è il secondo profilo molto importante. Dobbiamo far crescere contemporaneamente infrastrutture e competenze. Perché un'infrastruttura molto sviluppata senza le competenze è come un'autostrada nella quale non passano macchine.